Buongiorno. Sì, qui sono dai due, meno dieci, e sono pure il palazzo, la casa di mio nonno, il mister, master, maestro, o semplicemente, ooooh, semplicemente, David, Lynch, it's son, April 7, 2021, it's a, Tuesday, here in Aples, a, clear afternoon, Paris, still, and now, fifteen, seven, Fahrenheit, fourteen, Celsius, and a, this means that, this is that the really, 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 really soft, like this nation in this period, really spring climate, per quanto riguarda il video sui pensieri, come al solito, lo faccio, separato da questo, e nel caso, occhio se interessa. Anyway, I see and you all, I just see from this other window. Today, we have, we have, those beautiful, those beautiful, plus calcium, golden sunshine, all along the way, speriamo di continuare così, anche domani, per cui, see the reason from this other medical window, with a curtain, and in front of my, the house of my grandfather's, the father of my father, a torso, come se fossi sempre lì, from the medical window, quindi nel calarie dei cortini, sublime ogginotile, and it's, green, roller, shooter, behind me, on the top, and the front visible brain shot. And finally, from the medical keyboard, the Amadi GX 640, IPG 625. Ema e Crittivi, Molda People, la followed by John Ripporz, un saluto ad aktutti, spero avete fatto una bella break fast. ci vediamo il video tutti a domani